Anna, sei visibilmente stressata. Lo psicofarmaco è dietro l'angolo. Hai bisogno di una vacanza. Questo è l'itinerario e questi sono i contanti per le spese di viaggio. Questa, Marini, deve essere una guida romantica. Non voglio chiacchiere, voglio sentimenti. Questa non è una vacanza, forse non hai capito. È lavoro. E tu ti guardi dietro un linfomane. No, Hermano, è qui che ti sbaglio. Ho pensato anche a te. Sei portata dietro un'amica. Vale, non mi vado a dormire con uno sconosciuto. Se poi mi salto addosso, col pigiamanti stupro. Tranquilla, non c'è pericolo. Tu sei una di quelle che credo ancora nei principi azzurri, in San Valentino... In fondo cosa c'è di più entusiasmante dell'amore? Ti piace quella, vero? In questo momento è più un peso che altro. L'amore è l'avventura più grande. Un viaggio oltre se stessi, senza paura di perdere la strada del ritorno. Se non faccio un amore contento un'ora, io mi ammazzo. C'è mia madre. Facciamo una mucchiata. Sbaglio, mi sei saltato addosso. Eh, sì, una vecchia tattica. Mi servirebbero i miei soldi. Tranquillo. Tutti i fedi di papà? No. Perfetto. Massimo Senza, una lira. Sono pronta a tutto. Occhio che stavolta te innamori! Te innamori! Ci siamo persi. Mi dà la cartina? Te innamori! Mi sp caution è questo. Ci sarebbe il tutto! Adesso è così, per Junta! Ilraspu,